La nuova L'Italia ITA ha presentato il piano industriale 2021-2025. Già a partire dal prossimo anno saranno 61 le rotte servite, 52 gli aerei in flotta e circa 5.200 le persone assunte. La compagnia, guidata dall'amministratore delegato Francesco Caio, rinasce dalle ceneri di quella precedente a seguito del decreto governativo del 9 ottobre. Sono previsti circa 3 miliardi di euro di investimenti per il raggiungimento di tre obiettivi. Creare un vettore aereo efficiente, innovativo e competitivo. Sviluppare una rete di alleanze mirata ad ampliare il raggio di azione della compagnia e ad aumentarne le prospettive di crescita e occupazione. Infine, pianificare gli interventi rimanendo ancorati alla situazione attuale per assicurare agli azionisti un efficiente uso del capitale in grado di consentire un ritorno economico sugli investimenti. Le principali attività verranno focalizzate sul lab di Fiumicino e sull'aeroporto di Linate. Le nuove rotte saranno per circa l'85% di breve e medio raggio. Intanto è arrivato a Leonardo da Vinci il primo volo Delta Covid Tested, in partenza da Atlanta. Le tratte con una frequenza di tre volte a settimana permetteranno ai passeggeri che viaggiano esclusivamente per motivi essenziali di evitare la quarantena fiduciaria di 14 giorni prevista all'arrivo in Italia, previo espletamento dei protocolli di screening prima e dopo il volo.